Eccoci, salve a tutti! Mi sono fatti il regalo di Halloween, lo so, come ti fatti? Sì, perché volevo prendermi queste cose, uscivano a ottobre, spero che ci siano tutte e due, non faccio una figura di cacca, perché trovo solo uno e l'altro mi deve ancora arrivare, spero ci siano entrambi, e secondo me non ci sono entrambi, no, ci sono entrambi, apriamo il nostro pacchetto, sarà un video corto, però iniziate a lasciare like ragazzi, perché ci sta, ci sta, ci sta tutto il like qui, e partiamo proprio con, io era un bel poco non me ne compio Funko Pop, sono tipo 5 anni, ma ho appena visto, io non l'ho visto il film, però non potevo non prendere la Reign di Alien, ovvero il nuovo Alien, che è uscito e che io non ho visto, e sto aspettando la Regia Katia per vederlo, molto molto carina, non uscirà mai dalla scatola, rimarrai qua dentro e farei compagnia agli altri Pop, guardate che caruccia, molto bellina, presa anche a un prezzo più che ragionevole, era 13€, che è uscito da poco, ho preso 13€, passiamo al piatto forte, io qua secondo me qualcuno avrà delle lezioni, soprattutto un mio iscritto, ovvero Angelo Ignazio, prepara i fazzoletti, prepara tutto quello che puoi prepararti, lubrificanti, perché qui in mano ho Nightmare in 4K, non sono uscito a vederlo al cinema, ma ve l'avevo promesso, ho detto, lo recupererò con tutto ciò che io ce l'ho Nightmare in tutte le salse, ci stava, prenderlo in 4K, peccato non potrò vedere perché non ho un televisore 4K ultimamente, perché l'ho regalato a mia madre e quindi non me lo posso vedere in 4K, ma la Steelbook, ragazzi miei, è qualcosa di incredibile, è bellissima, veramente, è bellissima, poi vi farò, casomai, un unboxing, farò un video proprio dedicato, quando ci farò la recensione, faccio vedere proprio aperto, guardate che cura, cioè proprio a ricordare quelle vecchie VHS sembrerebbe, sì, un po' vorrei ricordare, proprio è una limited edition, come vedete, sono uscite varie edizioni di questo Nightmare, ma questo qua secondo me era il migliore, il prezzo è un po' altino, nel senso che parliamo di 30€ per un film vecchio, un vecchio film, ok, un cult però, un po' caro, voglio farvi vedere le mie altre edizioni di Nightmare, prima che pensate che io non ce li abbia, ma io ce li ho, ma io continuo a comprarli, perché sapete che io ho una passione spropositata e soprattutto quando escono queste edizioni, io veramente amante dell'horror, del cinema, non come certi youtuber che dicono di essere grandi amanti, ma poi, buh, non c'hanno mai una copia di questi film che amano, eccoci qua, guardate, Nightmare in Blu-ray, che uscì ai tempi, cioè non mi sa, è nuovo nuovo, cioè l'ho comprato tanto tempo fa, ma ce l'ho, dici ma Ivan, ma perché? Perché sì, perché ragazzi è un capolavoro che va ricomprato e ricomprato all'infinito, e qua c'ho pure il cofanetto con tutti i Nightmare, e guardate, cioè, cioè, vi sembra che io, vedete, guardate, ho due copie, ora tre copie di Nightmare, ma ragazzi, io sono fatto così, cioè, amo troppo il cinema horror, e quando posso, cioè questi sono gli unici acquisti che ho fatto questo mese alla fine, questo è un cofanetto che già avevo, eh, vi ripeto, qua ci sono tutti i film, sa 10 euro su Amazon, io l'ho preso all'incirco, lo stesso prezzo, vedete? Lo so, sono un folle. E niente, ragazzuoli, io vi ringrazio per l'attenzione, vi ringrazio che avete visto il video, che avete fatto la visualizzazione, avete lasciato like, lo spero che avete lasciato anche like, noi ci vediamo al prossimo video, questo mese è finito con gli acquisti, nel senso, non penso che farò altro, perché sono volato in 43 euro, tra il Funko Pop e la Steelbook di 30 euro, spesso 43 euro, quindi mi fermo un po', nel senso, prossimo mese ci sarà qualcos'altro, e ci sono delle Steelbook, vi dico soltanto questo piccolo sporeo che è arrivato qua, di Deadpool e Wolverine, e ho fatto una follia anche lì per Deadpool e Wolverine, non vi dico cosa, ma il 10, mi sembra il 10, 11 novembre, lo scoprirete la cosa ho fatto. Vi ringrazio a tutti per l'attenzione, vi ringrazio per aver visto il video, e ci vediamo un prossimo video. Penso detto tutto, vi saluto, ciao! Ciao!